C'è ragazzi bentornati sul mio canale youtube, giorni frenetici, sono usciti un sacco di nuove evoluzioni di giocatori interessanti e oggi in particolare vado a fare un bel approfondimento su Sissogo perché so che qualcuno ancora è indeciso se utilizzarlo o meno, come andarsi a gestire le evoluzioni e soprattutto quali sono le migliori evo secondo me delle ultime uscite. Partiamo col parlare proprio di Musa Sissogo, il meme, il demone del 4231 Sissogo full automatico che tanti di voi conosceranno ma chiaramente parliamo di un giocatore che ogni anno quando viene fuori su un FC è un qualcosa di incredibile e in particolare quest'anno hanno letteralmente signori miei sgravato secondo me. Parliamo del solito Cristone di 1,87m con 3 skill e 3 di piede debole ma ci interessa poco, piede preferito il destro, in questo caso è una carta che può giocare da CC, CDC e COC, ovviamente da giocare prettamente CDC e poi lo vedremo. Per quanto riguarda le statistiche abbiamo un giocatore che è abbastanza veloce, che non ha questo grandissimo tiro ma non nasce per calciare in porta, 84 di passaggio corto, 88 di passaggio lungo, delle buone statistiche di agilità quindi con l'L2 riesce a temporeggiare, a mettersi bene sulle linee di passaggio, statistiche difensive amici che non ve lo sto neanche a dire, questo intercetta, riesce a recuperare palla con i contrasti, si attacca all'uomo in una maniera impressionante e grazie al 90 di forza riesce quasi sempre a recuperare il pallone. Per quanto riguarda i playstyle spicca su tutti, ovviamente il lancio lungo che lo rende appunto molto viabile anche per quanto riguarda la fase di impostazione della manovra e poi abbiamo la batteria bianca, il blocco bianco, l'intercetto bianco, la scivolata bianca e in più il centrocampista di contenimento plus come mediano. Questo signori è un giocatore che costa, udite bene, ma tanto lo sapete, 20k e tra tutte le sfide stupide che noi sblocchiamo, le varie hero, icone eccetera che ci droppano le peggio pippe, questo qua va sbloccato punto, questo rischia di essere il rimpianto tipo Yorente Evo per chi non l'ha fatto l'anno scorso. E perché vi dico Evo? Perché questo Sissokolo potete evolvere due volte, nelle squad foundation, quindi le basi squadra, 1 e 2 ed è indipendente anche l'ordine col quale voi lo andate a evolvere, io farei prima la prima e poi la seconda per una questione di comodità mentale. Ma questo qui diventa clamoroso, 87 di velocità, si boosta il passaggio, diventa 4-4, regà è un centrocampista totale. E poi vi ripeto, tanti magari penseranno che questo è un troncaccione buono solo a difende, invece no, perché in fase di impostazione non vi sbaglia il lancio, non vi sbaglia nelle 1 triangolo, è una roba veramente tanto efficace. E una delle domande più gettonate è stata, ma te, sto Sissoko con chi lo devo giocare? Ho trovato Petit, ma sto Sissoko, chiariamo, ad oggi sto Sissoko per me è il mediano CDC più forte del gioco, ma proprio by far, cioè alla grande, alla stragrande è il più forte. E lo andrei a giocare sia da coppia con un giocatore che possa essere simile a lui, quindi un Turam, un Petit, perché questo? Perché comunque lui è sì molto difensivo, ma i piedi ce li ha, quindi se volete adottare uno stile di gioco un po' più conservativo e schierare il doppio mediano puro potete fare anche una scelta di questo tipo. Così come ciò non vi nega che potete anche avere la possibilità di prendere sto Sissoko, metterci vicino un De Jong, metterci vicino una Gujarro, insomma una cosa un po' più tecnica, così come potete anche metterlo in un centrocampo a 3. Paradossalmente anche da CC, anche se io preferisco metterlo sempre a vertice un po' più arretrato, con due che fanno un po' più di football, può essere una bombatina Gujarro, Nude Jong, Nude Bruin, quello che vi pare. Raga, questo è veramente forte e regge il centrocampo da solo, anche nella sua versione base, perché tanti mi hanno detto ma te le evoluzioni già le ho fatte e mo non fa niente, sbloccatelo a prescindere anche solo per avercelo da super sub. E per come la vedo io, anche se voi volete scegliere una delle due evoluzioni e magari fare una su di lui e una su un altro giocatore, va benissimo, perché sto Sissoko anche con una sola Evo per me è forte. Attualmente, cioè, non gli do un 10 perché sarebbe eccessivo, ma un 9 e mezzo, raga, must have totale su Sissoko, non vi fate scappare perché è il mediano più forte del gioco, proprio alla stragrande, come vi dicevo. E perché ho parlato delle evoluzioni che magari non le fate tutte e due su questo Sissoko? Perché per introdurre il capitolo evoluzioni uscite in questi giorni, sempre per quanto riguarda questi giocatori, basi squadra, ci sono due giocatori che a me piacciono tanto e sto parlando di Gnonto e di Vanewik. Andiamo per gradi. Gnonto è un 3-4 di 1,70 m, 5-11, 2003 è nato, un giovincello, beato lui, più esplosiva la sua corsa, piede destro, può fare l'ED, l'S, l'AD e l'ATT, quindi può fare 154 mila ruoli. Anche lui lo potete evolvere e soprattutto velinca con Sissoko, perché hanno lo stesso campionato, quindi potrebbe essere interessante. Veloce, agile, dotato di un grandissimo tiro, già così, è dotato poi anche di buoni playstyle perché il razzetto è rapido bianco, quindi in teoria dovrebbe anche speed boostare abbastanza bene e in più da esterno c'è l'attaccante interno plus che sapete essere uno dei miei ruoli preferiti per quella posizione. Per cui potete anche scegliere di sbloccare questo Gnonto, piazzare una prima EVO su Sissoko e la seconda su Gnonto e andate benissimo lo stesso. Lo stesso discorso vale per questo Vanewick, che è un terzino molto interessante, un 1,75-3-3 che comunque si va a uppare, è un giocatore che può giocare anche alto e D-A-D, e onestamente l'unica cosa che mi preoccupa è un po' il 1,75 di altezza perché magari potrebbe risentire contro avversari fisici anche se non dovrebbe essere troppo il caso. Gnonto, giocatore straveloce dotato di un discreto passaggio corto ma di una buonissima agilità, bene le stats difensive, in particolare l'80 di aggressività già così in questa forma non è voluto, c'ha dei buoni playstyle perché ha l'L2, il blocco e l'intercetto nella sua forma bianca e come terzino c'ha il tornante plus e come esterno invece all'esterno di centrocampo plus come ruoli. Per me questo è un giocatore che assolutamente può valere la pena, ovviamente con i dovuti crismi perché va anche lui ibridato, insomma, c'ha bisogno del suo bustettino per potersi ibridare, però potete tranquillamente scegliere una Evo su Sissoko e una Evo su Stovaneu, il cosugnonto e per me vi portate a casa due giocatori che vi fanno divertire, soprattutto Sissoko perché è veramente qualcosa di allucinante. Un altro giocatore del quale abbiamo parlato spesso in questi giorni è questo Remi Uden che si può fare anche lui all'interno dell'evoluzione dove magari in tanti hanno preferito fare Yamal, lui fa la D, le D, il C e la S e in una serie A dove magari c'è un po' di carenza per quanto riguarda questi ruoli a prezzi convenienti, sto Uden non è male perché è un metro e 85 quindi è anche molto fisico, diventa 4-4, ha un bel boost per quanto riguarda le stats di velocità e tiro e per quanto riguarda i ruoli c'è il regista largo plus che qualcuno potrebbe comunque andare a preferire come ruolo su quella determinata posizione. Peccato per i playstyle perché c'è solamente il tiro a giro bianco, chiaro con l'Evo guadagna qualcosina però di base è un po' carente, però anche questo qua è un giocatore che ci può stare. Poi per quanto riguarda il discorso Evo io onestamente vi direi, come vi consiglio sempre anche in live, di gestirvela come vi pare, nel senso Ora io vi ho fatto vedere questi che potrebbero essere interessanti, ma ciò non toglie che se voi magari avete una Premier o una Liga e vi volete fare lo Yamal di turno, chi per esso, e vi volete divertire perché Yamala vi piace, vi ha gasato l'esultanza del classico eccetera, con l'Evo divertiamoci. Non facciamo diventare anche l'Evo uno schiavismo che dobbiamo fare per forza tutti quanti i stessi giocatori. Guardate io che mese ho evoluto, ho fatto l'evoluzione di Giulia Dragoni, nella Great Guti ho fatto 154 partite per evolverla, perché? Perché il calcio femminile sapete che sto appassionato, lei l'ho conosciuta da vicino, per me è un gran prospetto e io ho voluto fare la carta evoluzione, quindi cercate di tenere a mente questo quando andate a scegliere le carte, perché è vero, può capitare, come nel caso di Sissoko, la carta che vale la pena evolvere, ma è la maggior parte dei casi, soprattutto in questa fase del gioco, potete evolvere un po' chi vi pare. Anche per questo video è tutto ragazzi, come al solito vi esorto a lasciare un bel commento, iscrivervi al canale e un bel like, vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola, da mattina fino a primo poperiggio, e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto nei vostri Beroschi e a presto, ciao! Grazie a tutti!